Ecco, avete sentito cosa dice l'ex Presidente Lombardo, il leader dell'MPA. Quindi autonomia per tutti, le risorse del territorio devono essere pagate. Non si può pensare che venga qualcuno a prendere risorse e noi non ci usciamo nulla. Sì, è detta così, però la verità è questa. Quindi consumare le energie, se si deve fare proprio, almeno facciamocene pagare. Ben diverso invece è la questione del consumo del suono. Oggi ci sono state delle polemiche a livello regionale su quella famosa sanatoria. Io non capisco come si possa portare avanti una sanatoria del genere. Molti della maggioranza dicono che sarebbe giusto sanare tutte quelle case, ma si parla di migliaia di case che sono state costruite negli anni 70-80, ma quale a oltre i 50 metri? Prima dei 50 metri. Che almeno 50 metri lasciateli. No, ancora prima, ci sono case costruite nell'acqua, a mare, con tutti i problemi che ci sono, perché ora con i problemi del clima, con l'innalzamento dei mari, queste case sono già condannate, non ci sono problemi. Però le vogliamo sanare e c'è tutta una polemica, uno scontro fra le opposizioni e la maggioranza. La maggioranza vorrebbe fare questa cortesia a migliaia di siciliani che si sono goduti le loro belle case a 4 metri dal mare, ma che c'è problema. Poi, fatti allora, i padri, che ora sono i padri che li lasciano ai figli, i figli si ritrovano questo patrimonio, diciamo, dal punto di vista ambientale straordinario. La casa sul mare è davvero bello. Però c'è anche il problema del consumo del suolo nei territori e Lega Ambiente su questa questione ha organizzato un convegno del quale parliamo con questa intervista.